Musica Un incontro con l'assessore regionale all'assetto del territorio Angela Barbanente per capire cosa stia succedendo negli alloggi popolari della provincia di Lecce alle prese con i tagli dell'acqua, dell'elettricità e di altri servizi. Da quando ad aprile è entrata in vigore la nuova legge regionale sull'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la situazione amministrativa delle case popolari si è ingarbugliata. In base alla nuova legge votata in regione all'unanimità lo IACP diventato ora arca non paga più le quote dovute dai morosi per il pagamento dei servizi creando disagi nelle gestioni condominali. Nessuno interviene per porre, per darci una risposta a quella che è la domanda che tutti ci poniamo ormai da tempo chi deve pagare le quote dei morosi dell'alloggi IACP cioè lo IACP ci deve dire a chi noi ci dobbiamo rivolgere per far sì di portare avanti il condominio, l'autogestione senza arrivare ai tagli dei servizi e così come tra un poco avremo in tutta la provincia di Lecce per centinaia, centinaia se non migliaia di famiglie. Fra l'altro il centrodestra leccese si chiede come mai dopo appena due giorni dalla pubblicazione della legge sul bollettino regionale l'OIACP abbia inviato all'amministratore Luciano Marzo ben 80 provvedimenti di revoca del mandato. A nostro modo di vedere questa legge è stata mal interpretata dall'OIACP di Lecce la finalità era quella di venire incontro ad una situazione gravissima fortemente impattante dal punto di vista sociale che è quella delle morosità sia dei canoni ma anche delle utenze noi siamo tutta la provincia di Lecce e è a rischio di taglio dell'acqua e della luce negli alloggi IACP in realtà secondo noi la legge è stata dall'OIACP di Lecce mal interpretata quasi con un intento di carattere vessatorio nei confronti di amministratori e responsabili delle autogestioni. Non è assolutamente d'accordo la dirigente dell'OIACP Sandra Zappatore innanzitutto non siamo nemmeno stati invitati alla conferenza ha spiegato quindi forse il comune non aveva intenzione di conoscere la nostra opinione detto questo la nuova legge regionale nell'articolo 33 istituisce il fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'ente al fondo sociale devono essere destinati una quota a parte dei canoni percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per altro uso da quello di abitazione una parte della quota per spese generali di amministrazione determinata annualmente dalla giunta regionale e una ulteriore dai contributi integrativi messi a disposizione dai diversi comuni l'OIACP per il 2014 ha già stanziato 250.000 euro per il fondo sociale di tutta la provincia di Lecce ha spiegato la Zappatore mentre i comuni fra cui quello di Lecce non hanno stanziato nemmeno un euro tempo di esami oggi terza prova scritta per gli studenti impegnati negli esami di maturità chiamati ad affrontare il temutissimo quizzone l'obiettivo è quello di verificare la preparazione nelle materie studiate nell'ultimo anno un massimo di 5 e un minimo di 4 a discrezione della commissione la prova si svolge come un test multidisciplinare ed è differente da scuola a scuola sulla base degli insegnamenti che vi si praticano c'è un po' di ansia ma siamo tutti comunque presi dal dolore dato che è morta la nostra professoressa d'inglese quindi non stiamo pensando molto alla prova ma stiamo pensando più alle cose importanti della vita le tracce erano né troppo facili né troppo difficili qualcosa sul mediamente difficile sei soddisfatto? sì sì sono abbastanza soddisfatto è andata abbastanza bene è stata tra le tre prove la più difficile a mio parere e speriamo bene credo sia andato bene ma aspettiamo i risultati soddisfatto? difficilissimo però è andato abbastanza bene contenta? soddisfatta? sì è andato meglio questo del primo un po' complicato però è fattibile comunque hai studiato giorno e notte? più o meno diciamo di sì tutto pronto per l'edizione 2014 di Salento in Bus il servizio di trasporto estivo realizzato dalla provincia di Lecce a partire da mercoledì 25 fino al 5 settembre ritorna il servizio che offre sia ai turisti che ai residenti un rapido, comodo ed economico collegamento fra il capoluogo e le maggiori località di richiamo turistico e fra queste e quasi tutti i centri grandi e piccoli dell'entroterra Salento in Bus si articola su nove linee principali che rappresentano i colori del marchio Salento da Mare integrate da altre linee secondarie di interesse locale che consentono ai viaggiatori di raggiungere quindi non solo le località turistiche e balneari ma anche tutte le altre località dell'intero territorio salentino a supporto del servizio di trasporto Salento in Bus sono stati attivati un call center 345-01-01-095 una casella di posta elettronica salento in bus chiocciolaprovincia.le.it dove inviare richieste e segnalazioni ed un sito web www.salentoimbus.provincia.le.it dove si potranno reperire tutte le informazioni su orari, costi del servizio, notizie dell'ultima ora per chi sceglie Salento in Bus per spostarsi sul territorio salentino con i mezzi pubblici anche per la stagione 2014 si potranno fare biglietti di Salento in Bus online sia utilizzando il telefono cellulare scaricando da internet l'apposita app sia tramite internet dal sito web www.salentoimbus.provincia.le.it basta avere un account Paypal o una qualsiasi carta di credito Salento in Bus ogni anno si propone di soddisfare le aspettative degli utenti ha dichiarato l'assessore provinciale ai trasporti alla mobilità Bruno Ciccarese consentendo loro di raggiungere di godere delle risorse paesaggistiche ambientali e culturali che il territorio offre un impegno fra i tanti per dare testimonianza dell'attenzione che la provincia riserva a tutto ciò che può promuovere la crescita e lo sviluppo un weekend con le nuove norme quello appena conclusosi a Gallipoli e gli effetti si sono visti in termini di sicurezza e di rispetto della quiete pubblica ma naturalmente dai lidi balneari si è elevato più di un mugugno insomma il problema è sempre lo stesso come conciliare la quiete pubblica con il desiderio di divertimento delle migliaia di giovani che nel periodo estivo si riversano a Gallipoli il sindaco Francesco Enrico sottolinea che il 21 e 22 sono state semplicemente applicate le misure concordate in prefettura per evitare gli ingorghi e il caos dell'anno scorso così alle 4 tutte le discoteche hanno chiuso i battenti ed hanno avuto una mezz'ora di tolleranza per far defluire il pubblico presente per quanto riguarda gli esercizi pubblici che somministrano bevande e alimenti essi possono organizzare serate solamente di venerdì, sabato e domenica fino all'1.30 con l'obbligo di far tacere DJ e complessi dal vivo dalle 14 alle 16.30 i lidi balneari potranno diffondere musica per sole 4 ore e dovranno chiudere alle 20.30 salvo autorizzazioni specifiche nei mesi di luglio e agosto possono essere programmate 6 deroghe la Feder Balneari farà conoscere in serata le ragioni della loro contrarietà a quanto previsto dall'ordinanza mentre dalla Baia Verde giunge un chiaro plauso al sindaco Francesco Enrico Alle tante prese di posizione di singoli ed associazioni adesso si aggiungono anche quelle istituzionali per scongiurare la soppressione della sede leccese del Tar come previsto dalla riforma della pubblica amministrazione varata dal governo nei prossimi giorni infatti si svolgerà un consiglio comunale monotematico al quale parteciperanno su invito di Paolo Perrone i sindaci di Brindisi e Taranto deputati, senatori e consiglieri regionali espressione del Grande Salento Formalmente il territorio fa sentire la sua voce si tratta di una iniziativa del governo che noi contestiamo perché secondo noi pur essendo concordi con Renzi sulle motivazioni che stanno spingendo la riorganizzazione dell'apparato dello Stato e degli uffici periferici in questo caso non si raggiunge quell'obiettivo che è l'obiettivo della semplificazione che è l'obiettivo del risparmio i costi che rimarrebbero a carico della giustizia amministrativa sono praticamente gli stessi che oggi la comunità i contribuenti pagano per avere la sezione di staccata a lecce in più avremmo l'aggravio del fatto che da un punto di vista organizzativo comprenderete che la Puglia è lunga è molto popolosa per cui forse aveva un senso la sede di staccata non è qui secondo noi che questo principio che ripeto noi condividiamo possa trovare poi applicazione e quindi chiediamo a tutto il territorio di partecipare in modo univoco a questa istanza verso il governo è stata inaugurata questa mattina la nuova isola ecologica situata sulla Lecce Novoli in località Villa Convento alla presenza dell'assessore alle politiche ambientali del comune di Lecce Andrea Guido e dei vertici dell'azienda ecotecnica proprietaria dell'impianto una piattaforma ecologica informatizzata a disposizione dei cittadini leccesi che così potranno conferire direttamente il materiale differenziato un impianto più grande e moderno che permetterà il riciclo dei materiali recuperabili e un conseguente contenimento dei costi economici, energetici e ambientali connessi allo smaltimento in discarica questa struttura rappresenta un ulteriore tassello nel programma di iniziative messe in atto dall'amministrazione comunale di Lecce volte al raggiungimento del famoso più 5% di raccolta differenziata necessario a evitare la famigerata ecotassa che la regione Puglia vorrebbe imporre raggiungere il 5% non vuol dire poi far rilassare tutti quanti i reccesi noi dobbiamo essere sempre pronti a portare avanti non solo il 5% fino al 31-12 ma quello che auspico io è proprio di raggiungere i dati della raccolta differenziata a Lecce con dati che superano di gran lunga il 5% per sempre però perché comunque stiamo parlando sempre del nostro territorio stiamo parlando sempre del nostro ambiente e quindi visto che oggi è madre natura che ci chiede aiuto noi dobbiamo essere pronti a far sì che per i nostri figli l'ambiente sia sempre al primo posto questa è una piattaforma informatizzata dove i cittadini e le utenze comunque di Lecce possono conferire le varie tipologie di rifiuti che non hanno anche per dimensioni possono non conferire nei cassonetti eccetera abbiamo una serie di container dove l'utente viene registrato nel totem elettronico viene data una tessera se non ce l'ha già e praticamente pesa i rifiuti se sono grandi volumi sul bilico oppure sulla bilancia del totem e poi si rega tramite quella rampa nel container dedicato alla tipologia di rifiuti che ha naturalmente il nostro personale è a servizio dei cittadini quindi dà le istruzioni per non commettere errori di conferimento e quindi poi viene assegnato anche un punteggio che alla fine possono raggiungere determinati punti possono vincere dei premi prima infiorata a Patù ed è subito successo quella dell'infiorata è una tradizione che attraversa un po' tutta l'Italia che si svolge in concomitanza con la processione del Corpus Domini e consiste nel tappezzare un tratto della processione con un tappeto di fiori variopinti così da creare un suggestivo parterre l'idea è stata del nuovo parroco di Patù Don Gianluigi Marso che da quando è arrivato nel piccolo centro del capo di Leuca ha già portato una fresca ventata di novità Patù ieri ha visto arrivare numerosi turisti per lo più provenienti da Leuca e fra questi spiccavano soprattutto i tedeschi dopo la processione in serata Uccio De Santis con il Moudou Show ha regalato momenti di sana allegria è il primo anno che c'è stato tanto da fare tutta la gente quanto l'edizione c'è stata per quanto riguarda? è tutto Patù, si è convolto qua, tutto Immaginate una calda serata alietata dal suono dei grilli e dalla luce delle lucciole in un'atmosfera ospitale e accogliente tra laboratori didattici, balli e canti popolari per il quarto anno consecutivo Masserie sotto le stelle ha dato la possibilità a cittadini e turisti di vivere un'esperienza davvero particolare e unica la manifestazione dedicata alla Puglia rurale è stata organizzata dall'area politiche per lo sviluppo rurale della regione Puglia in collaborazione con l'area politiche per la promozione del territorio dei saperi e dei talenti Masserie sotto le stelle ha coinvolto anche quest'anno diverse masserie didattiche di tutta la regione registrando un gran numero di partecipanti è diventato un appuntamento che in qualche maniera ci permette di mettere a disposizione della nostra regione queste realtà che esprimono veramente un momento importante per il mondo della ruralità pugliese noi ci siamo divertiti a definirle le scuole a cielo aperto perché nelle nostre masserie didattiche si dà la possibilità ai bambini, ai giovani ma anche agli adulti di conoscere il mondo della ruralità facendo anche percorsi formativi e di conseguenza tramite le nostre masserie riusciamo anche a comunicare con il nostro territorio mettiamo a disposizione del sistema turistico il territorio e anche grazie alle nostre masserie didattiche che sono fiori all'occhiello per la nostra regione vengono citate continuamente in tutta Italia per le attività che queste masserie mettono in campo è la prima volta che vengo in Puglia mi è piaciuto tantissimo questa maniera di mostrare la Puglia in tutti i suoi aspetti mi è piaciuto la maniera in cui ci hanno fatto vedere le masserie abbiamo visto gli animali, la produzione e particolarmente mi è piaciuto il paesaggio inaspettato si pensa sempre che la Puglia sia piuttosto storia invece il paesaggio è fantastico e mi è piaciuta anche questa idea di masseria con la possibilità di ospitare anche per dormire diciamo più persone questa è diventata ormai un appuntamento annuale per aprire l'estate con questa manifestazione masserie didattiche sotto le stelle ma è un po' l'apoteosi della vita che si svolge delle attività, dei laboratori che si svolgono durante l'anno quindi poi c'è un momento clou che cade all'inizio dell'estate tra l'altro quest'anno proprio il giorno del solstizio d'estate Grazie a tutti